rapida qua eh la facciamo correre porta e vada andare sui piedi uno solo sii forte da lì calma qua eh piano ragione qua dietro poi a facciare orbi da sui poi gas orbi da sui e bene la punta e la facciatore e a facciatore così diamo 50 per la spostare avanti si un bel resisto guarda ora stava a tre si e possiamo le gambe eh scurriamo in mano qua e bene anche l'entrae speriamo che è in fine non giù di spalle calma stiamo fino a qua siamo la punta morti siamo la punta facciamo Sì! Subito! Sì! 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 Calma! Solo andamani! Solo andamani! Oque! Dale! Oque! E' il momento? Oque! Guarda! Fai! Forza! Andare! Collegare! Giu chiu a tre! Tieni su i piedi, tutta la giù, calma, 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 tutta la giù, calma, tira su davanti, sì, forza, forza, sì, ok, abbiante, tira su, forte dentro, forte dentro, ok, andiamo dietro al 30, ancora 20, ok, ora il gas è in cima, fa lì, sinistro, eh, Valente, su di spalle, corte, spingi, ok, calma, usiamo, usiamo, andiamo avanti e alziamo forte, e, calma, fino a qua dove c'è la mia mano, guarda su, ok, usa il curvo, ok, spingi avanti, fa la lunga fino ad andarsi a più male, venendo avanti, ok, da lì spingi, ok, dobbiamo andare in testa, ok, avanti, spingi, e, aspetti sulla roccia dopo la roccia tutto il gas, forza! Grazie! 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 Grazie!